Ora è sempre resistenza! Ora è sempre resistenza! Resistenza climatica, gridano a gran voce le centinaia di giovani che insieme agli attivisti di Fridays for Future sono scesi in piazza venerdì 8 ottobre a Milano per protestare contro il cambiamento climatico resosi evidente oramai agli occhi di tutti una questione urgente da affrontare dopo gli eventi climatici estremi che si sono verificati quest'estate sul nostro territorio Noi siamo questa resistenza climatica, resistiamo contro le nuove forme di negazionismo negazionismo di chi dice che la transizione sta già avvenendo perché questo non è vero il governo continua a investire nei combustibili fossili e vediamo i risultati non solo nelle nostre bollette ma tutto attorno a noi dopo un'estate di eventi estremi è impossibile ignorare la crisi climatica ma il governo continua a farlo Da cosa sei vestita? Da terra però allo stesso tempo la terra non ha bisogno di noi quindi è come l'uomo si riducerà tra qualche anno stiamo distruggendo l'equilibrio ambientale e climatico che serve a noi per vivere quindi ci stiamo autodistruggendo Giovani attivisti sono così partiti alle 9 di mattina da Largo Cairoli e sono arrivati fino a Gioia sfilando per la città e chiedendo giustizia climatica per un pianeta in cui se si continua così non ci sarà spazio per le nuove generazioni La cosa bella delle nuove generazioni è che hanno ancora la capacità di immaginare un mondo diverso di non essere disilluse quindi forse è proprio quello che le spinge a scendere in piazza e a ricordare che è possibile cambiare le cose e avere il coraggio di dire no le cose così non vanno bene ma si può fare la differenza ma io ci metto il mio Ondate di calore, alberi sradicati dal vento, chicchi di grandine, grandi come palle da tennis e alluvioni per gli attivisti è ora il momento di intervenire con azioni concrete per quella svolta green verso una Milano attenta all'ambiente Qual è la Milano green che vorresti? Una Milano dove non si muore di caldo, non si muore di bicicletta e non si muore di inquinamento non è tanto da chiedere, Milano si vanta di essere in cima alle classifiche europee invece abbiamo alcuni tra i peggiori dati d'Europa abbiamo bisogno di delle strade sicure e soprattutto di meno auto e un trasporto pubblico migliore per chi arriva da fuori Milano e ha bisogno di entrare in città senza l'automobile abbiamo bisogno di degli spazi verdi che ancora vengono tolti in favore del cemento manca assolutamente qualsiasi limite al consumo di suolo e alla speculazione edilizia quindi è possibile creare una Milano che sia non solo più verde ma più giusta per tutti e per tutte perché la crisi climatica non è qualcosa di lontano da noi si tratta di costruire un quotidiano migliore e più vivibile anche il comune di Milano che viene visto con questo grande baluardo della sinistra in Italia ha tante cose che deve migliorare se vuole veramente imporsi come comune esempio deve cominciare ad ascoltare i propri cittadini ad ascoltare i comitati locali dei vari quartieri che chiedono più giustizia climatica per la città e non grazie a tutti